ora basta mister siamo distrutti basta 100 flessioni per ogni ragazzino scappato ne mancano ancora 299 ma cosa sta fermo lì Nemesis ma come gli pare le sei uscita Bats ma sta tranquillo è solo una tattica siamo qui per proporti una sfida ci basta quella che avremo contro i vostri amici già quando ci direte dove sono nascosti volete fare quella partita la farete ma saremo noi a giocarla al posto loro voi? e perché dovrei accettare? perché se vincerete vi consegneremo i tre guaglioni ma se perderete dovrete lasciarli liberi insieme a tutti i guaglioni che sono stati pietrificati nelle altre sfide ok accetto accetto? non ci posso credere e magari pensate anche di non riesco a dirlo pensate di vincere mo' è chiaro tuono per favore vuoi ricordare ai nostri amici i risultati delle partite giocate contro di loro? 999 vittorie per i Moai a 0 per i Moipao ci vediamo sul campo oi tuono per favore vittorie per i Moai a 0 per i Moipao